15 più tardi se ti ripetisci prima dico guarda qua che burro wow, io lo sono per il crudo è proprio verticale poi il punto in cui siamo più lontani è completamente verticale sembra che stiamo volando wow verticale non sto molto bene non sto molto bene bene bellissima 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 i figli poi non si vedono più sempre che siamo sospesi nell'aria no no alla fine quando finisco questo però alla fine riesco vi se non cambia non cosa che che Grazie a tutti.